Sessore Cremonese a due settimane dalle riaperture sta riprendendo la vita a Pescara, la vita anche nelle zone della Movida, sempre secondo le regole, commercianti soddisfatti, si pensa ad una buona stagione turistica anche grazie alla Bandiera Blu? Assolutamente sì, si pensa ad un'ottima stagione turistica, voglio ricordare come l'anno scorso nel mese di luglio ed agosto Pescara ha fatto il boom di presenze, un record che non avevamo da circa dieci anni, noi quest'anno contiamo di fare molto molto di più anche perché a Pescara è stata riconosciuta la Bandiera Blu, un grande lavoro che è durato due anni sotto il lavoro costante di quattro assessorati, abbiamo centrato l'obiettivo immediatamente e questo per noi deve essere uno spot in questi giorni da cavalcare. Noi auspichiamo che il coprifuoco venga totalmente rimosso, lo speriamo perché fondamentalmente i dati sanitari ci confortano, voglio ricordare che Pescara già da qualche settimana è una delle città che ha le migliori performance in Italia, credo che tuttora lo sia dietro a Udine sostanzialmente, quindi abbiamo un numero bassissimo di contagi, crediamo tantissimo che i pescaresi e soprattutto le attività commerciali stanno rispettando le procedure che sono state indicate dal Ministero della Salute, cioè quella del distanziamento, di cercare di evitare assembramenti, di usare le mascherine anche quando si sta seduti, che non si sta consumando. C'è una grande responsabilità, io vedo, vedo anche una grande voglia di vivere, la fine settimana scorsa Pescara è letteralmente esplosa, non si entrava né da Montesilvano né da Chieti né da Francavilla, questo ci deve rincuorare e deve far pensare che le nostre attività hanno davvero bisogno che si riprenda perché il commercio già era in una grave crisi, la pandemia l'ha affossata ancora di più e c'è bisogno davvero di riprendere il normale ritmo perché altrimenti molte partite IVA dovranno chiudere entro fine anno.